La giunta municipale di Capaccio Pestum ha dato mandato al sindaco di presentare denuncia nei confronti del deputato di Forza Italia Gigi Cascello, dopo l'interrogazione parlamentare di quest'ultimo relativa all'intervento di realizzazione dell'Inora Village. Cascello nell'interrogazione presentata il 2 agosto ha parlato di presunta esposizione ai rischi di una calamità naturale e di distruzione della flora autoctona. Considerazioni che insieme ad altre sono state ritenute offensive dal comune, in particolar modo nella parte in cui si ipotizzano reati di natura ambientale e di pubblica sicurezza. Di qui la decisione di demandare al capo staff l'individuazione di quelle condotte che posta in essere attraverso la stampa sono potenzialmente idonee a screditare l'immagine e la reputazione dell'ente.